Il ricordo dell'olocausto che è stato un crimine contro l'umanità vede coinvolte oggi le scolariche e a loro va il messaggio di questa epoca che ha rappresentato una tragedia per tutta l'umanità. Allora il messaggio è che la conservazione dei valori, della democrazia, del rispetto della persona umana, della libertà debbano essere principi sacrosanti assicurati a tutte le popolazioni civili. Il fatto di aver coinvolto le scuole oggi è molto significativo perché saranno loro le future classi dirigenti che dovranno portare avanti quello che oggi noi con tanti sacrifici stiamo facendo assicurare alla nostra nazione un sistema democratico, cosa che sta avvenendo nel migliore dei modi a questo caso lei sia diversa e una differenza per abge